I diapason identici, che è un diapason, una forcella di metallo, che quando viene colpita con un martelletto vibra in questo modo qua. Vibra molte volte al secondo. Quante volte? Questi due diapason vibrano 440 volte al secondo, quindi frequenza 440 Hz. Questa frequenza corrisponde a una nota che è il La4, quindi il La della quarta ottava della scala musicale. Adesso ne colpiamo uno e sentiamo appunto la vibrazione e la nota è messa. Se io tocco qua con il dito posso sentire appunto la vibrazione. Per fermarlo basta fermarlo con la mano. Sentiamo che suonano tutte e due la stessa identica nota. Anzi, proprio perché suonano la stessa identica nota, si verifica il fenomeno della risonanza. Io colpisco un diapason e l'altro inizia a suonare per conto suo. Questo suono che si sente è l'altro diapason che è stato messo in vibrazione dalla risonanza. Infatti il primo diapason vibra, fa vibrare l'aria qua in mezzo attraverso onde longitudinali di questo tipo. L'aria a sua volta mette in vibrazione il secondo diapason, perché il secondo diapason ha la stessa frequenza di vibrazione naturale del primo. Adesso c'è anche da dire che questa è la cassa armonica, che non è un caso che ha queste dimensioni. Vedremo infatti che la lunghezza della cassa armonica corrisponde a un quarto della lunghezza d'onda. Ora io cambio la frequenza di oscillazione. Come faccio? Per cambiare la frequenza di oscillazione metto un pesetto in cima al diapason. In questo modo il diapason, avendo la punta della forcella appesantita, vibrerà più lentamente. Infatti possiamo sentire che adesso la nota è più bassa. Prima battiamo il diapason non appesantito e poi battiamo il diapason appesantito. Sentiamo che ha una nota più grave, più bassa. E' circa un semitono di meno. Si può misurare la frequenza di vibrazione di questo diapason appesantito e si scopre che vibra circa 15 volte al secondo di meno. Quindi 440 Hz, 425 Hz circa. Adesso il fenomeno della risonanza non si verifica più. Quando io batto un diapason, l'altro non vibra più. Perché? Perché la frequenza a cui questo diapason può vibrare è diversa dalla frequenza di quest'altro. Questo manda un'onda sonora a 440 Hz ma questo vibra soltanto a 425 Hz. Quindi non si verifica più la risonanza. La risonanza si verifica se io abbasso il pesetto fino in fondo alla forcella. Infatti, quando il pesetto è qua in basso, è come se non ci fosse. Adesso le due note sono di nuovo uguali. Lo possiamo sentire e lo sentiamo anche dal fatto che si è verificata la risonanza. E' la stessa nota. E il pesetto, più viene sistemato in alto e più va ad appesantire la forcella. Quando è sistemato nel punto più alto la forcella risulta, cioè il diapason è più rallentato. E' logico perché avendo la cima del diapason una massa maggiore fa delle oscillazioni più lente. Quindi fa meno oscillazioni al secondo. Vediamo adesso che succede quando noi facciamo suonare contemporaneamente due diapason che hanno una diversa frequenza. Sentiamo adesso per esempio 440 Hz e 425 Hz insieme. Sentiamo che cosa succede. Si sente questo vibrato che si chiamano i battimenti. Questi sono i battimenti. Più le note sono differenti, in questo caso c'è una differenza di 15 Hz, e più i battimenti sono rapidi. Infatti si può dimostrare che questo vibrato, in questo caso, avviene 15 volte al secondo. Cioè un numero di volte al secondo pare alla differenza delle frequenze. quindi riassumiamo 440 volte al secondo, 425, differenza 15 Hz, quindi noi sentiamo 15 volte al secondo. Se noi invece le due frequenze le rendiamo più simili, in questo modo io adesso ho per esempio qua una frequenza di diciamo 425 Hz, qui invece il pesetto è più in basso, quindi questo diapason è sicuramente rallentato rispetto ai 440 Hz, ma non tanto rallentato quanto questo. Per esempio qua potrebbe essere ad esempio 429 Hz, 425 e 429. Quindi sono due note molto simili, infatti lo possiamo sentire, sono due note diverse ma molto simili, quasi identiche. Questa è appena più alta, appena più acuta, questa è appena più grave. la differenza per esempio è di 4 Hz. Allora sentiamo che cosa accade quando li battiamo insieme. Ecco, questi sono i battimenti. E quanti ne fa ogni secondo? Ne fa 4 al secondo. Perché 4 al secondo? perché è la differenza fra 425 e 429 Hz. Risentiamolo. Se le note diventano ancora più vicine, per esempio 425 e 427 Hz, in questo caso farà due battimenti al secondo, la differenza fra i due. risentiamo. 2 al secondo, perché c'è una differenza di 2 Hz. Noi quando battiamo insieme sentiamo come se fosse una nota sola che ha una frequenza pari al valore medio, 425 e 427, è come se fosse un'unica nota da 426 Hz. però l'ampiezza, quindi il volume di questa nota, varia due volte al secondo.